ciao a tutti benvenuti nello studio giochi penosi dove la magia viene creata qui è dove lavoriamo a grezzo 2 2 grezzo 2 2 è il nostro ultimo gioco è uno sparatutto ispirato ai classi del passato come doom duke nukem quake ma anche postal visto che è un gioco molto controverso e violento giochi come questo non esistono più e infatti noi cerchiamo di riportarli in auge giochi penosi è una software house indipendente attiva dal 2012 abbiamo sviluppato due giochi grezzo 2 e super botte bamba 2 turbo i nostri videogiochi sono destinati ad un pubblico adulto estremamente offensivi e politicamente scorretti questo nostro marchio di fabbrica ce l'abbiamo sin dal nostro primo gioco grezzo 2 definito da alcuni il gioco più violento e controverso mai creato grezzo 2 che non è un gioco è tutto ciò che di più sbagliato ci possa essere chi l'ha detto che i giochi meravigliosi non vengono fatti in italia? super botte bamba 2 turbo è un picchiaduro anch'esso ispirato ai classici degli anni 90 come street fighter o mortal combat solo che i personaggi che puoi utilizzare sono solo ed esclusivamente personaggi della tv italiana il nome stesso fa capire come questo gioco sia una presa per il culo di quel mondo lì e mantiene il nostro stile eccessivo e mega violento dei nostri giochi grezzo 2 2 è il sequel di grezzo 2 ne condivide le tematiche ma abbiamo approfondito altri aspetti non ci siamo rifatti necessariamente allo stesso tipo di satira che abbiamo utilizzato nel gioco precedente abbiamo attinto molto meno alla cultura pop o alla cultura dei meme su internet ma anche alla stessa politica italiana e la situazione assieme ci interessa abbandonare la dimensione amatoriale del gioco precedente per spostare il giocatore dentro un magico mondo fatto di stronzate non è necessario aver giocato a grezzo 2 per giocare a grezzo 2 2 ma se conoscete grezzo 2 sapete benissimo di cosa si tratta grezzo 2 2 è un iper frenetico, delirante, violento e blasfemo spara tutto in prima persona è un tributo a quella violenza videoludica estrema dei giochi degli anni 90 quando tutti i nemici esplodivano in 10.000 pezzettoni rossi infatti stilisticamente mantiene quel feeling retro di quei giochi ma realizzato con tecniche moderne era il nostro sogno creare un videogioco che avesse caratteristiche old school però realizzate con tecnologia all'avanguardia grezzo 2 2 avrà una campagna single player lunga e approfondita il giocatore si troverà ad affrontare tutta una serie di merdate una dopo l'altra finché non gli esploderà la testa è un prodotto molto più curato rispetto al suo predecessore siamo riusciti a costituire un team di persone che ci lavorano per creare un gioco all'altezza delle aspettative ma forse la differenza più importante nel nuovo capitolo è come abbiamo deciso di realizzare i personaggi per dare più realismo al gioco abbiamo utilizzato una pratica in disuso come quella della digitalizzazione per portare delle persone vere direttamente dentro al gioco esattamente come si faceva nei videogiochi degli anni 90 pensate a Mortal Kombat o ai cloni di Doom con personaggi digitalizzati allora, gamba destra avanti gamba sinistra leggermente più indietro ma sulla punta ok, guarda dritto davanti a te posa perfetto così è ottimo per ottenere animazioni più fotorealistiche possibili abbiamo bisogno di fare foto da otto angolazioni diverse perché ogni angolazione corrisponde ad una direzione nel gioco ed ecco come lo facciamo questa pedana l'abbiamo realizzata ispirandoci a Rise of the Trial ed è lo stesso metodo che utilizzavano negli anni 90 per ottenere sprites di personaggi digitalizzati quindi reali girandola in questo modo possiamo ottenere le otto angolazioni di cui parlavamo una volta ottenute le foto dobbiamo solo scontornare il green screen sistemare i colori se ci sono nel bilanciamento dei verdi dei riflessi non dovuti e aggiungere tutti quegli elementi come il sangue o le budella che ovviamente non ci sono nella foto originale utilizzare foto di persone reali in alta definizione ci consente di ottenere più dettagli e di mantenere lo stesso feeling retro che altrimenti non avremo con i modelli 3D a differenza dei nostri personaggi che sono realizzati con sprite digitalizzati le armi del gioco sono tutte in 3D abbiamo utilizzato dei modelli tridimensionali con pochi poligoni ma con delle texture ad alta definizione che consentono anche di riflettere le luci dinamiche presenti all'interno del gioco con le PBR questo mix tra modelli tridimensionali e sprite bidimensionali non è stato usato molto spesso all'interno di sparatutto in prima persona ma noi ce ne siamo fregati e sbattuti il cazzo avere un bravo level designer dedicato ci ha consentito di sbizzarrirci nella creazione di mappe sempre più complesse e articolate un altro fattore importante è il fatto che abbiamo raccolto le texture direttamente sul campo andando a fotografare dei luoghi realmente esistenti e digitalizzando quelle foto per trasformarle in texture ad alta risoluzione che sono andate a coprire i monumenti del gioco uno dei livelli principali del gioco è basato sulla nostra città Perugia ci è bastato scendere di casa fare delle foto ai monumenti e alle facciate dei palazzi e poi montarle su una mappa del catasto con scale e dimensioni reali bisogna dire che questo studio semiprofessionale in cui ci troviamo non si è miracolosamente generato dal nulla siamo stati noi che con numerosi tentativi molti dei quali falliti siamo riusciti ad ottenere un ambiente in cui lavorare come volevamo siamo partiti facendo foto con il cellulare a casa mia e poi col tempo abbiamo trovato nuovi spazi attrezzature sempre più costose nuove persone che collaboravano con noi e finalmente siamo finiti qui dentro non è stato uno scherzo ma grazie alla nostra passione e determinazione siamo riusciti a superare tutta una serie di ostacoli che abbiamo avuto nel nostro cammino ma non è ancora perché la campagna Kickstarter? perché vi chiediamo dei soldi? i nostri giochi precedenti erano tutti gratuiti nel momento in cui siamo andati a realizzare Grezzo 2.2 abbiamo capito che avevamo bisogno di un bacchio reclutare nuovi attori sostenere un team sempre più ampio e comprare magari nuova attrezzatura tipo questa e soprattutto videogiochi così politicamente scorretti così anarchici e offensivi non esisteranno più di conseguenza l'unico modo per realizzarli è affidarci a una campagna di raccolta fondi l'obiettivo che abbiamo fissato su Kickstarter è molto basso è quello che ritenevamo fosse il minimo indispensabile almeno per finire il lavoro e portare a termine il gioco qualsiasi tipo di contributo per noi è un grandissimo aiuto e anzi vi ringraziamo già da subito grazie mille per tutto quello che avete donato finora ma ovviamente dovete sapere che più donerete e più regali avrete ci siamo impegnati per quello che riguarda le ricompense delle vostre donazioni se donerete un centinaio d'euro 250 euro riuscirete a diventare dei personaggi di Grezzo 2.2 quando cazzo vi ricapita di diventare un personaggio di Grezzo 2.2 oppure quello che ci avete chiesto sempre tutti la copia, iscatolata, fica, vecchio stile del gioco la maglietta esclusiva del gioco il tuo nome scritto in pelle umana sui credits del gioco penso non ci sia altro da aggiungere lasciamo la parola al vero narratore del gioco la voce del protagonista di Grezzo 2 porca madonna preghi ve dico niente mano al portafoglio e cacciati quadrini si no venga a cerca a casa grazie grazie grazie